Il DSM viene ottenuto dal primo impulso ricevuto, si parla infatti di solito di DSM first, o dall'ultimo impulso, tanto che si parla poi di DSM last. Il DTM invece viene ottenuto proprio dall'ultimo impulso che raggiunge il terreno nudo, quindi al di sotto di eventuali alberi, vegetazione e via dicendo. Il risultato che si ottiene a titolo puramente esemplificativo sono appunto dei tendenzialmente dati di tipo raster. Sulla sinistra vedete appunto un esempio di DSM, ora qua siamo nella zona di Cortina in Veneto e non è particolarmente magari evidente, non so se dallo schermo si vede bene, Comunque sul DSM possiamo notare appunto anche la presenza di elementi al di sopra del terreno, in questo caso vegetazione, sul DTM invece abbiamo di fatto l'andamento, la quota del terreno nudo. Quello che però in questo caso interessa più a noi è appunto il calcolo del CHM, quindi la possibilità di ottenere appunto a partire da DSM e DTM il CHM. Come si ottiene questo modello? Semplicemente da una semplice sottrazione, quindi una banale operazione di algebra matriciale, sottraendo quindi al DSM il DTM. Con questa operazione ovviamente rimarranno nel nostro CHM anche eventuali edifici, non solo la vegetazione, che è poi di fatto lo scopo principale di questo modello, ovvero ottenere diciamo la quota della vegetazione presente sul terreno. In alcuni casi, come vi dicevo anche prima, per il DSM può essere fornito sia il DSM first e il DSM last e diciamo che la caratteristica di questi due prodotti è quella di essere pressoché identici in corrispondenza dell'edificato e di avere invece una serie di differenze in corrispondenza della vegetazione. Avere entrambi questi prodotti ci permette ovviamente di avere un CHM molto più insomma molto più preciso di fatto in cui è più semplice diciamo separare quindi ciò che è vegetazione da ciò che è edificato. Qua nella slide vedete di fatto un esempio abbiamo diciamo le righe, il profilo rosso che è appunto il DSM last e il profilo blu che è invece il DSM first. Qua abbiamo diciamo è stata graficata l'andamento su una tile in prossimità del centro di Vicenza, in particolar modo proprio nel centro storico dove si trovano ad esempio la Basilica Palladiana e vediamo che effettivamente in corrispondenza degli edifici i due profili sono pressoché identici. Diverso invece è quello che vediamo in corrispondenza della vegetazione. Qua siamo su un'altra tile sempre nel centro di Vicenza ma diciamo in una zona a parco urbano e vediamo appunto che in corrispondenza della vegetazione i due profili quindi DSM first e last in realtà hanno notevoli differenze che invece non riscontriamo sugli edifici. Quindi sicuramente avere entrambi i prodotti ci permette di appunto ottenere un CHM epurato diciamo degli edifici. Ma veniamo all'oggetto vero e proprio di questo GeoBreak ovvero i plugin CHM from LIDAR e il plugin LIDAR TileMaker. Il primo quindi il CHM from LIDAR è stato sviluppato per conto di Regione Veneto e in particolare è stato finanziato dal programma di sviluppo rurale per il Veneto. Questo plugin consente appunto di calcolare il CHM a partire quindi da DSM e DTM. Quali sono gli input principali di questo plugin? Ovviamente file formato raster di DSM relativi DTM e poi un file vettoriale in formato GeoPackage contenente di fatto le geometrie quindi i poligoni, le bounding box, delle varie tile che compongono la campagna di volo. In questo GeoPackage devono essere poi inseriti, lato tabella attributi, tutta una serie di informazioni che permettono al plugin di svolgere poi le sue funzioni secondo i parametri definiti dall'utente. Queste informazioni sono ad esempio il nome, diciamo l'identificazione della campagna di volo, l'ente che ha finanziato e realizzato la campagna, il percorso al file dei DSM, il percorso ai file DTM, i sistemi di riferimento dei file originari e la risoluzione. Cosa ci permette di fare CHM from leader? Una volta creato diciamo il nostro dataset, quindi avendo a disposizione tutti i dati di cui abbiamo bisogno, ci permette di calcolare il CHM secondo diverse modalità. La prima è quella per campagna di volo, quindi tramite l'interfaccia grafica del plugin io semplicemente posso selezionare una campagna di volo e il plugin mi calcolerà il CHM per tutte le tile che appartengono a quella campagna di volo. Seconda modalità, campagna di volo selezionata e area di interesse. Con questa modalità il plugin calcolerà anche in questo caso tutti i CHM per tutte le tile appartenenti alla campagna di volo selezionata e anzi alla campagna di volo selezionata che intersecano l'area di interesse definita dall'utente. Inoltre su richiesta diciamo sempre tramite ovviamente l'interfaccia grafica del plugin che ora andremo a vedere direttamente in QGIS si può richiedere di creare anche appunto il ritaglio del CHM sulla maschera dell'area di interesse. C'è poi un terzo caso che forse è quello più complesso, quantomeno è stato quello più complesso da gestire lato sviluppo ma che probabilmente è anche quello più utilizzato invece lato utente che è quello di calcolare il CHM selezionando solo l'area di interesse. In questa situazione si possono verificare di fatto tre scenari il primo in cui l'area di interesse selezionata interseca una e una sola campagna di volo per cui in questo caso otterremo il CHM delle tile che intersecano la nostra area di interesse e che appartengono alla campagna di volo e il ritaglio. Secondo scenario l'area di interesse interseca più campagne ma che non si sovrappongono fra di loro. In questo caso a valle di determinati controlli ovviamente su coerenza di sistema di riferimento e risoluzione fra i dati verrà anche qua calcolato il CHM delle tile che intersecano l'area di interesse e il CLIP diciamo il ritaglio. Terzo scenario quello in assoluto più complicato l'area di interesse interseca più campagne ma sovrapposte fra di loro. In questo caso il processo si blocca viene ovviamente segnalato questo questo warning insomma questa situazione all'utente e viene richiesto appunto di selezionare la campagna per il quale si vuole calcolare il CHM. Andiamo però direttamente su QGIS il plugin per chi magari non lo sapesse è stato rilasciato e quindi pubblicato e quindi disponibile nella repository ufficiale di QGIS e quindi è possibile installarlo direttamente dal plugin manager come tutti i plugin di QGIS. Una volta installato compare questa icona ovviamente nella barra delle toolbar cliccando sull'icona a meno che voi non aveste già importato il layer tile DSM e DTM viene automaticamente caricato il layer delle tile come potete vedere di Regione Veneto ovviamente il plugin è stato realizzato per conto di Regione Veneto per cui questo plugin vedremo che è strettamente connesso alla struttura dati di Regione Veneto ma proprio per renderlo invece più fruibile anche ad utenti esterni a Regione Veneto ovviamente abbiamo appositamente realizzato il plugin leader tile maker ma di questo parleremo tra pochissimo. Quindi questa è l'interfaccia grafica del plugin quando parlo appunto di layer di tile intendo un layer vettoriale fondamentalmente di questo tipo queste sono tutte di fatto le bounding box le tile di tutte le campagne di volo che sono state fatte su Regione Veneto se andiamo ad aprire la tabella degli attributi di questo di questo vettore ora al di là dei dati vediamo una discreta quantità di informazioni che sono tutte le informazioni che servono al plugin per poter poi andare a recuperare DSM e DTM infatti vediamo qua che di fatto la colonna P base, P campagna, P DTM, P DSM non fanno altro che comporre il percorso ai file DSM e DTM abbiamo le colonne NDTM e DSM che contengono appunto il nome del file con relativa estensione e poi tutta un'altra serie di informazioni come il sistema di riferimento, l'anno, l'ente come vi dicevo prima e la risoluzione e via dicendo ora dal momento che in questo vettore ovviamente sono inseriti i dati di Regione Veneto io per dimostrarvi l'utilizzo del plugin mi sono creata diciamo un dataset ad hoc quindi andiamo di fatto a ingannare il plugin fornendogli un layer tile DSM e DTM diverso ed ecco qua siamo sempre su Regione Veneto in particolar modo siamo sempre nella zona di Cortina e queste sono tutte le tile delle campagne di volo su questa zona in questo caso ovviamente il percorso al file è al mio PC e non ai server di Regione Veneto e quindi possiamo andare a fare qualche test riapriamo il plugin allora come vi dicevo questa è l'interfaccia grafica abbiamo appunto il menu per la selezione dell'area di interesse quindi di fatto possiamo fornire il layer da cui prendere la nostra area di interesse ovviamente possiamo limitare l'utilizzo eh la selezione l'utilizzo dell'area di interesse alle sole geometrie selezionate sul layer possiamo andare a selezionare l'ente in questo caso ovviamente sono elencati tutti i valori univoci che vengono letti all'interno della colonna ente e possiamo andare a selezionare la campagna quindi selezioniamo una campagna in questo caso non sto selezionando un'area di interesse per cui verranno calcolate le tile per tutte scusate verrà calcolato il CHM per tutte le tile appartenenti a questa campagna come vedete abbiamo poi sull'interfaccia altre opzioni ad esempio il ricalcola CHM perché qualora fosse già stato calcolato si può procedere a un nuovo calcolo la possibilità ora ovviamente disattivata ma di selezionare un nome per il file del ritaglio e di selezionare anche una diversa risoluzione sempre per il clip input obbligatorio in ogni caso è ovviamente una cartella di output in cui il plugin andrà a salvare tutti i nostri output è possibile poi scegliere il formato è possibile ovviamente scegliere un diverso sistema di riferimento per i file output per cui verranno eventualmente riproiettati e poi ci sono queste due opzioni molto interessanti la prima che rimuove di fatto i valori minori di zero che sono diciamo da considerarsi errori e questa opzione cosa fa? di fatto riporta, associa a tutti i pixel con valore negativo il valore zero abbiamo poi quest'altra invece opzione che è rimuove i valori maggiori di e la soglia può essere ovviamente definita dall'utente che permette invece appunto di diciamo rimuovere quindi non considerare di fatto tutti i valori al di sopra della soglia fornita dall'utente ora proviamo a lanciare il plugin ve lo dico già sono mi sembra cinque tile in questa campagna un po' fake che ho realizzato voilà una volta terminato il processo qua ovviamente avete un'area di log in cui il plugin vi dice di tutto e di più nel senso che vi dà non solo informazioni come appunto si sta processando la tile 1 di tot ma vi dà anche eventuali warning messaggi di errore e insomma tutto quello tutto quello che fa e che sta facendo tendenzialmente ve lo scrive in quest'area alla fine vi dà anche un riassunto di fatto di tutto quello che è stato fatto quindi i parametri di input i parametri di output e via dicendo quando vedete comparire la scritta processo terminato potete chiudere il plugin e visualizzare già caricati all'interno di un gruppo nominato semplicemente con data e ora del giorno in cui è stato lanciato il processo tutti i vostri chm e anche un un layer vettoriale sempre contenente le tile che sono state che sono state processate all'interno di questo layer avete nella tabella degli attributi avete esattamente la stessa struttura quindi la stessa colonne in più in questo caso il plugin vi scrive all'interno delle colonne relative al chm quindi percorso chm e nome chm le informazioni relative appunto al chm appena calcolato quindi qua abbiamo il percorso nome del chm e sistema di riferimento e risoluzione con cui è stato è stato calcolato e questo diciamo è il primo esempio ora vi faccio vedere al volo un esempio con un'area di interesse voilà ok qui spegniamo tutto andiamo a selezionare ad esempio un'area di interesse riapriamo il nostro chm from leader vi segnalo che il plugin è stato realizzato in modo da diciamo non bloccare la finestra principale di QGIS per cui una volta aperto il plugin voi potete continuare a accendere spegnere selezionare le vostre geometrie andiamo quindi a selezionare come layer per l'area di interesse le nostre categorie forestali lì diciamo di utilizzare solo la geometria selezionata altrimenti attenzione vi utilizza tutto il layer e andiamo anche a selezionare la nostra solita campagna di volo gli ridiamo una cartella di output e lanciamo il processo attendiamo che finisca perfetto e chiudiamo allora in questo caso non so se ve ne siete accorti mi sono completamente dimenticata di definire il nome per il mio clip ciò nonostante il plugin l'ha creato ugualmente dandogli ovviamente lui un nome di default in questo caso clip mi ha creato ovviamente non solo il ritaglio ma anche il CHM per di fatto le tre tile della campagna selezionata che intersecavano appunto l'area la mia area di test e poi il solito eh layer vettoriale con le tile con tutte le informazioni inserite all'interno quindi insomma questo di fatto è un po' il funzionamento il funzionamento generale come vi dicevo poi avete ovviamente la possibilità di fare tutta un'altra serie di operazioni quindi anche riproiettare il layer convertirlo in altro formato e e via dicendo però come come vedete ovviamente ora oggi noi abbiamo fatto un rapido esempio su su poche tile eh i tempi di processamento ovviamente dipendono moltissimo dal numero di tile che vengono selezionate però come vedete non è non è comunque non sono operazioni particolarmente pesanti ecco anche quando ne abbiamo fatte cinque diciamo che i tempi di risposta sono stati abbastanza abbastanza rapidi ma torniamo alla nostra presentazione e iniziamo invece a parlare di uno strumento che sicuramente per tutti gli utenti non di regione veneto è sicuramente utilissimo quando infatti abbiamo ultimato lo sviluppo di chm from lidar ci è sembrato diciamo doveroso essendo comunque chm from lidar ehm stato pubblicato sulle repository di QGIS fornire anche uno strumento che potesse rendere l'utilizzo di questo plugin diciamo più più su larga scala quindi permettere anche appunto ai ai non utenti di di regione veneto di utilizzare questo plugin per le proprie elaborazioni è stato così sviluppato appunto lidar tile maker che altro non fa che generare il layer vettoriale di tile che vedevamo prima eh a partire da dati dtm dsm dati in input dall'utente viene creato direttamente un file geopackage che semplicemente come ho fatto io prima nel nell'esempio che vi ho fatto vedere su QGIS deve essere sostituito a quello diciamo che viene caricato di default dal plugin come sostituirlo semplicissimo basta che voi lo importiate nel vostro progetto QGIS prima di aprire il plugin così facendo il plugin vedrà che all'interno del progetto QGIS è già stato caricato un layer tile e quindi di fatto non ve ne importerà un altro l'unica nota importantissima è che però il layer il vostro layer di tile generato con lidar tile maker si dovrà chiamare esattamente ehm come vedete sulla slide quindi tile underscore dsm underscore dtm quindi se rinominate il layer ovviamente eh il plugin eh chm from lidar non sarà più in grado di riconoscerlo come layer di tile ovviamente leader tile maker non solo crea la geometria ma crea anche la tabella degli attributi associata con tutte le colonne e tutte le informazioni necessarie a poter poi utilizzare questo layer vettoriale come input di chm from leader quindi di fatto lato back end quello che fa il il plugin cos'è calcola l'estensione dei file dsm file dtm dati in input se le due estensioni matchano sono uguali viene quindi creata la geometria del poligono della tile corrispondente all'estensione e ehm vengono appunto eh inserite tutte le informazioni all'interno della tabella degli attributi la tile quindi la geometria viene creata se e solo se eh le due estensioni sono identiche mh e soprattutto se esistono entrambi i file diciamo che se di una tile avete solo il dsm non il dtm quella tile diciamo nel processo verrà verrà schippata input obbligatori del plugin in realtà sono pochissimi è sufficiente avere una cartella contenente tutti i dsm una cartella contenente tutti i dtm il sistema di riferimento dei due dati delle due informazioni e poi una cartella di output dove come al solito il plugin vi salverà l'output finale ovvero il layer vettoriale di tile per poter utilizzare il plugin leader tilemaker leader tilemaker l'unica piccola cortezza è quella di organizzare i propri dati diciamo con una struttura un po' diciamo piuttosto precisa infatti se vi ricordate quando abbiamo visto la tabella attributi del layer delle tile che abbiamo utilizzato prima avevamo diverse colonne che andavano a comporre il percorso al file questo è quello che di fatto dobbiamo riprodurre diciamo nell'esplora risorse del nostro computer quindi una cartella che costituisce di fatto il base path quindi il percorso la base una cartella che poi sarà considerata dal plugin la campagna di volo quindi andrà a popolare la colonna p campagna che è quella che poi viene utilizzata per selezionare la campagna in chm from leader e poi due cartelle una contenente tutti i dati del tutti di sm e una contenente tutti di etm leader tilemaker ora come ora lavora per singola campagna di volo quindi se voi volete generarvi le tile di più campagne di volo dovete far girare il plugin insomma tante volte quanto sono le vostre campagne una volta organizzati i dati in questo modo in realtà il plugin appunto è semplicissimo basta infatti dall'interfaccia andare a indicare il percorso alla cartella del dsm il percorso alla cartella del dtm specificare il sistema di riferimento e poi ci sono diciamo altri due parametri che possono essere specificati dall'utente che sono appunto l'ente che come vedevamo prima è un'altra informazione utilizzata da chm from leader e l'anno che è sempre un'informazione utilizzata dal dal plugin e il risultato altro non è come in questo caso un ora qua è sempre un esempio un layer di tile già nominato tile dsm dtm con la sua tabella degli attributi ora volendo possiamo anche provare a vederlo al volo anche qua mi sono creata un insomma diciamo un dataset ad hoc utilizzando direi dati leader di regione sardegna che sono reperibili insomma sul web se non ricordo male sono in vgs 84 utm 32 posso andare ovviamente a selezionare un un ente ora non mi ricordo se erano del ministero dell'ambiente però insomma possiamo scrivere di fatto quello che vogliamo e un anno ovviamente cartella di output volendo posso definire un sistema di riferimento per il layer di di tile quindi nel caso volessi crearlo con un sistema di riferimento diverso da quello dei di dsm dtm se non specifico nulla mi creerà il mio geopackage con sistema di riferimento quello dei dsm dtm in input ora vediamo qua ce lo dice ovviamente attenzione non è stato selezionato un sistema di riferimento per il layer di tile quindi verrà utilizzato quello del dsm del dtm andiamo a vedere cosa ci ha creato ed eccolo qua ora non so dove siamo proviamo a mettere un open street map sotto ed eccoci qua ciò significa che in questa campagna ipotetica di volo aveva appunto tre tile che corrispondevano a tutti i parametri qua ho la mia tabella degli attributi ente quello definito da me hanno idem il formato viene ovviamente letto direttamente dai file sistema di riferimento è quello che gli ho specificato io e qua ho vedete esattamente il percorso al file così come l'ho strutturato io nella mia cartella di fatto io avevo una cartella dentro documenti chiamata dataset con all'interno una cartella campagna 1 che diventa quindi il nome della mia campagna e all'interno una cartella dtm e una cartella dsm che diventano quindi i valori della colonna pdtm pdsm e poi il nome del file dei tre file contenuti all'interno delle due cartelle ecco qua quindi questo è diciamo uno strumento che è nato proprio con lo scopo quindi di rendere il plugin chm from leader decisamente più più fruibile per tutti vi lascio qua ovviamente un po' di plugin un po' di scusate un po' di link utili abbiamo infatti realizzato sempre per conto di regione veneto un tutorial sull'utilizzo di chm from leader ovviamente essendo questo tutorial stato realizzato ancora per regione veneto è molto orientato ovviamente ai loro dati e alla loro struttura dati ma abbiamo realizzato invece anche un manuale sia per il plugin chm from leader quindi diciamo con tutte le informazioni necessarie per poterlo utilizzare ma ovviamente più generico in tre lingue italiano inglese spagnolo vi lascio anche la repository al codice è infatti codice assolutamente open così come per leader tilemaker stato realizzato anche qui il manuale in tre lingue e anche per leader tilemaker ovviamente il codice è open lascio adesso spazio visto che insomma sono andata anche fin troppo lunga un po' di insomma un po' di domande curiosità e intanto vi lascio anche i riferimenti per il prossimo geobreak che sarà il 7 ottobre e durante il quale si tornerà invece a parlare di GNSS e ci sarà la seconda puntata di un mini ciclo di geobreak dedicati alla costruzione di una stazione GNSS a basso costo se avete domande curiosità perplessità qualsiasi tipo io sono a vostra disposizione ovviamente potete ovviamente in questo caso accendervi i microfoni e parlare direttamente ecco senza il plugin time maker crea le tile dei dati raster si confermo tra questo è incluso anche il file xyz allora l'xyz diciamo che è è un formato un po' particolare soprattutto sotto forma di raster quindi personalmente non ricordo adesso se avevo fatto dei test con questo tipo di formato ma sarebbe da da testare dipende molto da come è strutturato l'xyz ecco questo l'avevamo riscontrato anche con insomma con i dati di regione veneto sull'xyz purtroppo c'era sempre qualche qualche problemino ma non tanto da parte del plugin ma proprio di lettura da parte degli strumenti GIS come QGIS ma avevamo fatto dei test anche con GRASS grazie a se volete anche direttamente aprirvi il microfono in questa fase ovviamente ben volentieri nel senso che appunto lo scopo è quello magari di parlare anche un po' insieme se qualcuno ha esperienze sull'argomento da raccontarci, da condividere ben volentieri io spero di essere stata insomma esaustiva in realtà sono due plugin piuttosto complessi quindi capisco che magari vederli così rapidamente può essere un po' disorientante però se poi in tempo vi vengono dubbi o curiosità ovviamente vi lascio anche i miei miei riferimenti vi invito a iscrivervi al canale telegram dedicato cioè GeoBreak in cui appunto mettiamo sempre i vari appuntamenti e anche tutta una serie di informazioni più legate a GTER in generale vedo un'altra domanda scusate gestisce dati raster provenienti da campagne di volo diverse campagne di dati raster ma allora diciamo che quando CHM from LIDAR quindi siamo diciamo nel caso con l'area di interesse che si interseca più campagne di volo suppongo che però non si sovrappongono sul formato non ci sono non vengono fatti controlli di compatibilità infatti insomma questo è possibile ovviamente fare un un ritaglio e fare il calcolo delle singole tile su su diversi su diversi formati i controlli che vengono fatti sono su sistema di riferimento e su e su come si dice e sulla risoluzione ovviamente in modo che siano uniformi però sul formato non c'è non c'è problema e sui dati nulli dipende in realtà per i dati nulli come vengono gestiti lato raster quindi se viene di fatto definito un valore per i dati nulli oppure no quindi dipende un po' dal dato ecco tendenzialmente anche nel clip il plugin mette i dati nulli mi sembra quei valori tipo meno 999 eccetera eccetera e sì diciamo che allora Daniele mi chiede se in un prossimo sviluppo è possibile mettere il filtro dei valori più bassi non solo minore di zero ma a un valore definito dall'utente un po' come viene fatto invece per la soglia dei valori maggiori di ovviamente sì si potrebbe fare ovviamente sì sì diciamo che dal punto di vista tecnico non ci sono impedimenti ecco scherzo Grazie. Vediamo se qualcun altro fa una domanda. Io ti faccio la domanda che ci hanno fatto sempre, che oggi non è ancora venuta fuori, la prevedo, ma non bastava fare un RMAPCalc per fare... dov'è il vantaggio di fare un plugin? In teoria era un'operazione semplice, fare la differenza tra il DSM e il DTM. Perché è un'obiezione, tu lo sai, abbiamo sviluppato la formazione un po' io e un po' te e puntualmente ci è arrivato al convegno da una parte o dall'altra questa classica domanda. Secondo me oggi non c'è nessuno che abbia il coraggio di farlo. Allora, diciamo che sicuramente l'utilizzo di un plugin, lo sviluppo di un plugin, quindi banalmente dotato di una sua interfaccia grafica eccetera, rende sicuramente l'operazione più semplice magari anche a utenti non espertissimi di QGIS o di GRAS che quindi magari non hanno particolare dimestichezza comunque con strumenti non proprio basici come i calcolatori RASTER. Perché già in QGIS il calcolatore RASTER è decisamente un po' più appealing, chi conosce un pochino GRAS saprà che invece in quel caso il calcolatore RASTER di GRAS pur essendo diciamo potentissimo, insomma richiede già una certa esperienza. In più sicuramente sono tutte operazioni che possono essere fatte con i singoli comandi di QGIS, di fatto il plugin lato codice altro non fa che richiamare poi dei comandi di QGIS, la cosa sicuramente utile e positiva del plugin è intanto la possibilità di calcolare appunto secondo determinati parametri banalmente selezione per campagna, selezione per area di interesse via dicendo e l'altro aspetto positivo suppongo poi nel caso Roby aggiungi ovviamente tu se avevi in mente dell'altro è il fatto di avere tutta una serie di infunzioni fondamentalmente integrate in un unico strumento perché è vero che di fatto il CHM è una sottrazione ma il plugin mi aiuta comunque a gestire mi fa anche tutta una serie di controlli appunto sul formato su sui miei dati sul loro sistema di riferimento sulla loro risoluzione mi permette di riproiettare mi permette appunto di convertire il formato cioè racchiude in sé un un discreto numero di operazioni che sicuramente in QGIS si potrebbero fare singolarmente oppure oppure appunto in questo caso farli di fatto in un unico processo ora poi ripeterò se Roberto sei se vuoi aggiungere anche tu qualcosa magari che mi è sfuggito però direi che un po' il senso di questo plugin dovrebbe essere questo. Sì sì no ma la mia era ovviamente una domanda retorica nel senso che sapevo la risposta però appunto vedendo che nessuno interveniva più di tanto e secondo me essendo visto che appunto per quella che era l'esperienza è una domanda che ci hanno fatto diverse volte l'ho riproposta diciamo non volevo assolutamente mettere in difficoltà sapevo che avessi avuto la risposta. Sì sì no ma io dicevo appunto sì perché insomma sì sicuramente infatti non è assolutamente per fare un'operazione aggiungo solo una cosa bellissima per fare la stessa operazione con i cavalli di QGIS certo si potrebbe fare ma ci vorrebbe dieci volte tanto il tempo cioè si risparmia secondo me un'operazione che normalmente uno farebbe in mezz'ora si riesce a fare in 30 secondi. E secondo me la proporzione è questa è chiaro per chi lavora come come la committenza quindi Regione Veneto e i forestali di reggimento per chi dovrebbe lavorare quotidianamente con questi dati è una bella differenza insomma è stato penso e spero per loro un salto di qualità nel tipo di lavoro. Rispondo anche invece a una domanda di Massimo allora possono essere utilizzati dati leader di un geoportale regionale direi di sì banalmente per leader tail maker l'esempio che vi ho fatto direi che ho utilizzato proprio dati del portale regionale della Sardegna se non ricordo male. E quindi assolutamente sì appunto basta scaricarli e invece lì DTM e DSM immagino che tu volessi scrivere devono avere necessariamente la stessa risoluzione sì. e tendenzialmente credo che l'abbiano cioè non non mi è mai capitato diciamo di 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 vedere appunto eh un una tile di DSM con una risoluzione la relativa tile DTM fornita con un'altra risoluzione ecco. Prego figurati. Bene se non ci sono altre domande eh vi ricordo appunto l'appuntamento per mercoledì 7 ottobre e ehm appunto tutti i miei riferimenti e appunto vi ringrazio per aver partecipato a questo geobreak. A breve ovviamente eh metteremo la registrazione che per fortuna Roberto ha fatto partire perché io me l'ero completamente scordata quindi grazie Roby. Eh mancheranno probabilmente i primissimi minuti però direi che la parte saliente del geobreak eh l'abbiamo l'abbiamo registrata e sarà entro la giornata disponibile sul nostro canale YouTube qualora qualcuno volesse eh rivedersela e magari soffermarsi meglio su su certi aspetti. Quindi quindi io niente vi ringrazio e vi diamo appuntamento appunto al 7 ottobre con una stazione GNSS a basso costo. Grazie a tutti.